Il manifesto della vita cristiana viene affermato la sera dell'ultima cena. Poche ore prima di venire abbandonato, tradito, rinnegato, Gesù lascia ai suoi la consegna più alta. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Il comandamento nuovo riassume, ha detto il Papa a Regina Celi, tutto il messaggio di Gesù, non con l'astrattezza di un precetto, bensì con la concretezza dell'esempio, perché ha ricordato Francesco alla legge dell'amore Gesù per primo ha dato carne, dimostrando come sia possibile attuarla, amando il prossimo. Un amore è frutto dello Spirito Santo col quale ha soggiunto il Papa. Gesù ci chiama ad amarci gli uni gli altri, anche se non sempre ci capiamo, non sempre andiamo d'accordo, ma l'amore, ha detto, è più grande di queste differenze. Sono tanti piccoli e grandi gesti che obbediscono al comandamento del Signore. Amatevi gli uni agli altri come io ho amato voi. gesti piccoli, di tutti i giorni, gesti di vicinanza a un anziano, a un bambino, a un ammalato, a una persona sola e in difficoltà, senza casa, senza lavoro, immigrata, rifugiata. Grazie alla forza di questa parola di Cristo, ognuno di noi può farsi prossimo verso il fratello e la sorella che incontra. gesti di vicinanza, di prossimità. In questi gesti si manifesta l'amore che Cristo ci ha insegnato. Al momento dei saluti seguiti alla recita del Regina Celi, Papa Francesco ha ricordato con affetto la festa della mamma, chiedendo alla folla in Piazza San Pietro un applauso per tutte le mamme e benedicendole. Grazie. Grazie.